Giulio Verme aveva un problema, voleva salvare il mondo. Una firma contro il nucleare, una firma per salvare i bambuini. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e cooperazione. 110 e basta. C'è una donna che sta male. La strada è nei macchinoni, dai. Negli animali morti. E le bombe. E clorofluorocarburio. Ma non ci riusciva. Non ce la faccio più. Non ce la faccio più. Io c'ho una cosa che ti può aiutare. Sai quella storia che usiamo solo il 20% del nostro cervello? Vabbè la provo, dai. Tanto peggio di così. Con questo la usi solo il 2%. È buona, eh? Scopare! La strada sera ho conosciuto la maiale. Sono pesa un buco, lo portate, sono su e glielo ho buttato! Eh, 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 eh. È un mito! Eh, eh, eh. Ti ammazzo la testa! Questa è l'unica cosa che ti butta del porco? Il pane! Ciao, mi chiamo Giro Merme, sono un tipo solarium. Oh, questo è un coglione! I miei valori sono la famiglia, la prostituzione e la cazzosa. Io non riesco a capire, è completamente un'altra persona, è impossibile. Il nostro leader! Non basta! Non basta! Mamma che cazzo me lo frega a me! Italiano Medio, il primo film di Maccio Capatonda. Scopare! Scopare!